Negentropi o negentropia, altrimenti detta anche sintropia, è un concetto di derivazione fisica, di derivazione biologica, di derivazione chimica ed anche di natura statistica elettronica. Ora, tramite un procedimento di riduzione negentropica, questo concetto può essere fatto passare in tutte le scienze. Si costituisce così un concetto nuovo, complessivo, generale, che è molto importante. Per dare delle prospettive al mondo sia fisico che culturale. Ho privilegiato il concetto di negentropia nei miei libri. Passo ora ad una brevissima lettura della mia narrativa. Grazie Villaggio a nord, sul lago di Como Vedo la luce prevalentemente azzurra ed intensa. Odo i rumori ovattati dei vicoli giù sulla strada, e di barche e barcaioli del lago. Annuso l'odore di mille essenze e fiori di prato. Tocco con un dito una sostanza gialla poco consistente che scotta. Gusto la polenta di grano turco e saraceno. Conosco questo interessante luogo. Il lago si distende a settentrione tra una doppia catena ininterrotta di monti, e si slarga maggiormente dei suoi due rami a formare uno specchio azzurro e migliaia di piccole onde, variegate in tonalità e tutte riflettenti. Quei riflessi di luce, dal 200 metri del livello del mare, come quota il lago di Como, arrivano più sopra di 500 metri, illuminando in modo diffuso i pascoli circondati da boschi cedui. Sommandosi con la componente diretta della luce del sole, che picchia, rendono eccezionalmente visibili cose, animali, persone. Il cielo luminoso di un celeste splendente avvolge tutto a dare una sensazione d'altitudine, accentuata dalla distanza del lago in basso, dove gli eventi sono rallentati e microscopici sono le cose e le persone.